Il Paradiso 7, ultime puntate, Marcello far saltare il matrimonio di Ludovica. Il gran finale del Paradiso delle Signore 7 potrebbe essere caratterizzato dalle nozze tra Ludovica e Ferdinando Torrebruna. Le anticipazioni delle nuove puntate della soap opera pomeridiana rivelano che al centro dell'attenzione ci saranno le vicende di Ludovica, la quale riceverà una proposta di nozze ufficiale dal suo fidanzato. Peccato che l'ex fidanzato Marcello Barbieri potrebbe intervenire e rovinare la festa al suo nemico Torrebruna. Le nuove anticipazioni del Paradiso delle Signore 7 rivelano che per Ludovica arriverà una proposta di nozze. Ferdinando deciderà di farsi avanti con la ragazza che ha conquistato il suo cuore, al punto da chiederle ufficialmente di sposarsi e di farlo al più presto. Ferdinando vorrebbe convolare a nozze in tempi brevi, la sua amata invece chiederà del tempo per poter riflettere. Il motivo di questo tentennamento è strettamente legato al suo ex Marcello, dato che Ludovica ha scoperto la relazione del suo ex la Contessa, e non l'ha presa affatto bene. Tuttavia le anticipazioni delle prossime puntate del Paradiso delle Signore 7 rivelano che alla fine Ludovica accetterà la proposta di nozze che le è stata fatta da Ferdinando. I due si prepareranno per unirsi in matrimonio al più presto e pronunciare così questo fatidico sì. Immediata la reazione di Marcello, il ragazzo scoprirà subito la notizia delle nozze della sua ex fidanzata e non si esclude che possa lasciarsi andare a un gesto inaspettato. Nel corso delle ultime puntate di questa settima stagione della soap opera pomeridiana di Rai 1, Marcello potrebbe fermare le nozze della sua ex fidanzata. Il sospetto è che, col passare delle settimane, Marcello possa rendersi conto di non aver ancora dimenticato la sua ex fidanzata. Nonostante la relazione con la Contessa che ormai va avanti da un po' di tempo. A questo punto Marcello potrebbe decidere di intervenire in prima persona per fermare le nozze di Ludovica e Ferdinando. In tal caso Barbieri chiuderebbe la sua relazione con la Contessa per confessare tutto il suo amore all'ex fidanzata. Con la quale aveva sognato di convolare nozze prima della rottura definitiva. Con la quale aveva sognato di Ludovica e Ferdinando. Con la quale aveva sognato di Ludovica e Ferdinando.